E' nuovamente al centro di un'aspra polemica la strada statale 107, la Silana Crotonese. Infatti per domani pomeriggio è prevista una gran mobilitazione da parte di sindaci ed associazioni nel tratto dove ci sono dei lavori di riefficientamento, oltre che la collocazione dei due semafori che negli ultimi fine settimana hanno creato rallentamenti al traffico veicolare e interminabili code. Come sappiamo questa è diventata poi nel tempo forse una delle più importanti arterie della Calabria che collega ricordiamo due mari, due province, due capiluogo attraverso la Sila a 1500-1600 metri dal mare, cioè una grande arteria che collega i villaggi, poi le stazioni turistiche invernali. E' chiaro che diciamo subito che c'è un grande lavoro dell'ANAS, degli operatori, di quanti giorni e notte garantiscono la sua percorribilità, io in tanti anni non sono mai rimasto di notte. Negli ultimi, per come evidenzia sempre l'ex parlamentare del PD Franco Laratta, sembrerebbe esserci stata dai vertici ANAS una maggiore disattenzione. Ritardi nel piano neve, personale che manca, mezzi che mancano, lavori fatti fuori luogo, a Ferragosto ancora stiamo bitumando e adesso, caso scoppiato domenica scorsa dell'Epifania, centinaia di automobilisti rimasti in fila per ore per rientrare perché facciamo dei lavori con un semaforo del tutto inopportuno, in un periodo inopportuno e soprattutto l'assenza che era stata richiesta di due operatori che gestissero questo semaforo. Pertanto domani pomeriggio alle 15 a partire dall'ex parlamentare insieme ad amministratori pubblici del comprensorio silano è previsto un sit-in di protesta in prossimità dei lavori e dove è collocato il semaforo che crea numerosi disagi ai turisti e danni anche agli imprenditori del comprensorio silano. Ci troviamo lì per una protesta formale perché l'ANA, se ascolti, vanno rispettati gli operatori economici che sono gli unici che davvero fanno vivere l'altopiano della Sila tra immensi sacrifici, vanno rispettati i turisti che vengono qui. Non è possibile che si facciano lavori quando non bisogna farli, non è possibile che ci siano lavori che durano mesi, non è possibile che ci siano due o tre operazioni, cioè va rivista l'impostazione, dobbiamo fare turismo, turismo di qualità, ma non possiamo creare disservizi. Allora l'ANA si ascolta i sindaci, si ascolta gli operatori, si concordi col territorio, si coordini col territorio quando c'è da fare le cose e se ci sono problemi da discutere si discutono, si va a Roma, si va al Ministero, ma non ci si può chiudere senza ascoltare gli operatori economici, i sindaci, le associazioni che fanno tanto per rilanciare la Sila.